a tutti i gamers bentornati sul prea channel io sono Axel Preda e ce li siamo ci siamo con Deus Ex eravamo rimasti che siamo morti qua oltre questa porta dove vedete quel puntino grigio oltre la mappa ti hanno inchiappetato a dovere ma per mia distrazione appena quello se ne va io ho un altro piano anche se ho zero dardi posso sempre usare il mio attacco furtivo sperando che anche se diventi invisibile la telecamera non mi rileva avanti e si riferma e ce ne va se io faccio invisible mi rileva si tranquillo attacco sono ancora invisibile o no 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 ok zitto tu se no ti uccido eh se provi solo a parlare ti uccido prendi tutto ecco si ok ci siamo adesso uuuh salve posso ucciderlo questo no eh salve questa è forte mia che uccide mi sa che allertava gli altri eh eh si ho fatto una buona scelta mi scusi non volevo ma non l'ho uccisa l'ho assordita ok adesso posso andare qua sotto ah che ti siete oh no questo non è un passaggio occhi 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 eh torno invisibile no consumo troppo metto la pistola si metto la pistola la pistola poi non ho capito che assordiscono posso colpirlo vediamo qua pannello viola ma violiamolo dov'è che buio è buio è buio è un casino qua eh un casino proviamo ci buttiamo ci buttiamo ci buttiamo ci buttiamo vediamo 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 no oh 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 brutto brutto pompazza 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 oh un pazzo ho detto non mitragliatrice del cacchio pompa tattico se arrivano qua io li fotto eh non è che li fotto perché se arrivano non li fotto vieni 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 entro dai entra è andato è andata mi sembra che non venga nessun altro mi muovi tutto quello che ha gentilmente grazie mi metto qua dietro così non possono neanche sgramarmi la ferra troppo pesante mi cerca ne approfitto ne approfitto per il bloccato questi non vengono guarda dove sono sono nascosti arriva 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 ok la roba è finito solamente ce l'abbiamo fatta tu vieni assolutamente con me mi scusi devi venire con me non posso qua incastato nella porta così o più venga venga ok dai qua chiudi ok questo da tutti a una morte che ti dormo ci significa niente vabbè io devo andare in un'altra porta comunque vieni a pitti sesamo c'è sto niente qua tutto a posto non so neanche entrati c'è comunque ah questo è difficoltà a livello 2 ci ha fregato ull peppa no no aspetta perché sotto il tracciamento non dovrei rinunciare alcun tentativo esci 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 dovevo usare l'altro questo che in effetti adesso non mi serve più facciamo attacco corpo a corpo che posso fare questa cos'è che vabbè dobbiamo entra qua dentro dentro in questa stanza qua di computer quindi devi usare le cose che abbiamo una scansione è una rilevazione ok allora ok si si può fare si può fare così ma è 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 così accesso consentito viande tutto faccio tutto faccio apriti c'entra nessuno grazie al cielo che credo è già morto qui si può chiudere no nuovo nuovo perfetto non vuole cosa anche se non so così ispezione valigetta attenzione prendi 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 sempre tutto quello che puoi qua c'è una pistola prendiamo ferra ferra computer software di qualcosa un quotidiano che vi leggerete con calma a voi mettendo in pausa se avete voglia attimo di capire questo armadietto con le armi dargli fucile va qua facciamo scopo avvi lucchetti a prendi tutto quello che c'è tutto quello che c'è poi andiamo tac va così niente tardi non più spazio dovrei vendere qualcosa e abbiamo allora due computer due computer si iniziamo da questo e vediamo è sicurezza 3 ma è sione io ho appena usato un punto sbloccato questo abbiamo sbloccato si comunque non è che mi dico qualcosa che mi interessi le camera è questo sbloccare ma serve livello 3 per sbloccare quello quindi io com'è che vuoi dirmi che devo farmela tutta in modalità invisible qua sono andato non c'è aspettate faccio un'altra stanza mi rileva la mappa e qui dietro proviamo un attimo a sbloccare questa roba qua insomma trovarci cacchio scansione ce l'abbiamo niente vai di qua si tenta 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 no come devo più di sensi riporto in vita grazie compagno ma state giù anche lei venga c'è per tutti grande grandissimo ma quelli si possono riportare in vita quindi dite che è meglio che gli ammazzi un po tutti io sicurezza eh vabbè comunque fatevi bene con venti la vostra la vostra impressione comunque stiamo facendo rifornimenti di tutto eh sì l'idea comunque in teoria è ammazzarli quanto pare tieni premuto tieni premuto questo dorme questo non dorme non c'è attacco corpo a corpo no eh proprio non si può quando dormono non si possono toccare giuramento in corso panico ci viene bene di panico attenzione eh ma lei che cosa ci fa lì mi scusi ah no ma non è un tizio non è che vuole scherzare e con me non si scherza però non mi importa se è un civile o meno tu puoi parlare vieni zitti qui vige l'omertà capito si sta zitti e io non sto prendendo munizioni eh che cacchio ha fatto la strage ha fatto eh attenzione non c'è più nessuno praticamente ho killato tutti ma la mente ma qua c'è un altro piano però eh si sale ancora intanto cerchiamo qualcosa in giro non c'è niente beh si sale si sale ok qua su c'è qualcuno ancora su questo non ci piove ecco lì uno siamo sul tetto praticamente eh no c'è più di uno eh c'è anche uno di la attenzione è un casino eh però non capisco esattamente questo arrivando per esempio cattivissimo per potente eh Cosnief non ho purtroppo una pistola silenziata sennò il Cosnief già l'avevo eliminato un attimo di utilizzare questa modalità questa modalità che non mi non mi sgamano non mi sgamano no no pessimo 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 tutte e due poi mi arrivano attenzione mi scusi no no non suona l'allarme attenzione eh vai tranquillo c'è so niente eh c'è cazzo e io filarsela non vengo un giù di qua vero? eh non sono andato io vi fotto questa è la verità un pazza porca porca eh ma questo è cattivissimo è cattivissimo attenzione ti ci prova oh per potenza no 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 per potenza no 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 troppa per potenza troppa 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 eh vabbè non si può fare non si può fare non si può non si può mi dava per forza mi dava per forza farla in modalità in modalità invisible perchè come avete visto non è molto semplice no che se io mi mi rimbottisco proprio di biocelli a go go no poi mi vado di qua no si fin qua tutto bene giusto? poi perchè loro sono attirati comunque dall'idea che io sono di là si ho invisible e lentamente mi muovo lentamente 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 ma questo è lucido così mi nascondo eh mi nascondo guardatelo 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 come bastardo è infimo così è proprio un bastardo comunque poi mi sto qua un po' tranquillo tranquillo se arriva uno lo accoppo guardatelo che arriva eh guardatelo che arriva se trova il suo amico lo riporto in vita lo faccio secco potevi partire a fare c tuoi ok ok ragazzi ok va ancora tutto bene non voglio lasciare qua perchè c'è tutta quella roba da recuperare tante tanta eh tanta roba eh tipo da recuperare adesso volo 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 lo vado rapidamente da sticola che non sono benzo coperti ok poi prendo lui lo trascino proprio qua nell'angolino qua non lo devono trovare anche tu vieni con me vieni qua nell'angolino qua utilmente vieni dai su forza non fare i capricci non compenetrarti con le cose amico dai forza ecco ti bravo che te vieni qua e te ne state qua tutte e due non rompete le palle intanto muovo vado un attimo a vedere cosa posso prendere no questo no ma qua non c'è niente uh ciao questo si e basta ok possiamo procedere non spechiamo munizioni la facciamo lo stealth anche perchè quel robottone onestamente non lo voglio riaffrontare quindi io non posso andarci te devo tipo diventare invisibile di nuovo le mie biocelle piano eh dobbiamo farla con calma spina biocella no non ho la biocella però come potevo fare con questo meglio di no forse è meglio di no eh yes si devo ops devo non fai vedere da quello la correre correre lì salva salva perchè sarà importantissimo sto momento correre lì entrare lì dentro senza il tutto farmi scamare mi facciamo andare via eh perchè ti avvicini però sei proprio bastardo allora eh chi ti ha detto di venire qua però scusami oh cristoforo colombo poi è lui eh ciao proprio lui è proprio lui è proprio lui è proprio lì si deve mettere che figlio di che figlio di oh jesus cristo fuori colombo dai che devo entrare soltanto lì dentro levati le palle oh 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 tranquillo dai tranquillo dai tranquillo dai tranquillo io vado sperando che mi duri l'energia nasconditi 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 grande così grande così Ok Che caga Ragazzi che caga Prendi La ferra non ci interessa Portala nel mio ufficio E vediamo se ho ragione Ricevuto Portala nel suo ufficio Una parola Una parola portala nel mio ufficio Tranquillo eh Ti preoccupare faccio tutto io Tu vai tranquillo Allora Allora come siamo messi qua Che Era girato di spalle Era passato Troppo vicino amico mio eh Se ti allontani giusto Quei 20 metri io Me ne andrei Di là E scapperei Di là Bene Corri Balto Ok Balto ha corso E Bartolo ce l'ha fatta Adesso il problema di Bartolo è che deve arrivare Là E là ce n'è uno Appunto C'è pure qualcosa Bartolo Deve riuscire a Farla Stealth Con Due persone che ci guardano Bartolo Dimmi un attimo Che parte girata Ma dove cacchio La statua No è esattamente lì dentro Però fa la stronzetta Perché Si sta nascosta di così Vabbè Bartolo Esci da questa modalità Diventa invisibile Quei 5 secondi Che ti servono Per andare lì E annientare Oh cazzo Obiettivo Eeeh Vabbè Mi scusi Non vuole La mia intenzione Mi lo scappo Non la conosco Non l'ho mai vista Facciamo finta che va tutto bene Voi non mi avete mai visto qua E gentilmente me la svegno Dove devo andare Dove Dove Lì Là su Giù Sessione Qua devo andare Vai Stiamo di fretta Stiamo di fretta Non ho tempo da perdere Facciamo presto Ma che lingua sta parlando Che cazzo hai combinato Jensen Niente I poliziotti Dicono che un altro Terrorista potenziato Li ha attaccati alla stazione Ma va Vaffanculo Adesso ti ordino Di parlare Con la psicologa La Osen Ti aspetta in ufficio Ma va Ma va Ma va Ma Sbrigati Perché Chang Ha trovato Una nuova pista Per il caso Riprese Intellicam Che inchiodano l'arc Ti porterà diritto A golem Ma va Vaffanbrodo Vabbè ragazzi Direi che per questo Episodio La possiamo concludere Qua abbiamo fatto Mi sento Mi sento Mi sento Soddisfatto Rispetto agli Scorsi episodi Che abbiamo fatto Poco o niente In questo ci siamo Dai impegnato 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 Comunque Mi raccomando Mi piace A questo video Se il video Ovviamente vi è piaciuto Un bel mi piace Anche la pagina Facebook Che vi lascio In descrizione E un saluto A tutti i gamers Grazie a tutti